Ehi tifoso dell'Azzurra, benvenuto in un altro video, vediamo le ultime notizie dal Napoli. Se sei nuovo qui iscriviti subito e aiutaci lasciando il tuo mi piace. Alisson Becker, portiere del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione sportiva di Sky proiettandosi ai quarti di finale di Champions League e citando anche gli azzurri. Cosa dire del Napoli? La compagine di Mr. Luciano Spalletti sta facendo benissimo anche in Serie A. Sono una squadra difficilissima da affrontare e lo sappiamo perché ci abbiamo giocato contro. Hanno giocatori che fanno la differenza e Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro. L'estremo difensore dei Reds ha poi aggiunto nel corso della sua intervista. Credo che il Napoli abbia le qualità sufficienti per andare avanti in Champions e se continuano così possono fare qualcosa di grande. Ma per arrivare fino in fondo servono tanti fattori. Carisma, la qualità tecnica e tattica. Io amo l'Italia, seguo la Roma, anzi, forza Roma sempre! Sua ex squadra, NDR, tornerò sicuramente in Italia nelle prossime settimane perché è un paese che amo. Ciao Azzurra fans, scrivete nei commenti, lasciate il vostro like e iscrivetevi per ricevere le news di Azzurro. Forza Napoli!